Cresce la tensione alla Portovesme SRL, nuovo motivo di scontro tra sindacati e azienda e la riduzione del servizio di pronto soccorso, giornata di mobilitazione confermata per il 12 gennaio. Per la Polizia Ferroviaria in Sardegna il 2022 è stato un anno di intenso lavoro, tracciato il bilancio dell'attività compiuta su treni, stazioni e linee ferroviarie dagli agenti del Compattimento di Cagliari. Quasi 9 milioni di euro di indennizi per le calamità naturali nell'isola, tra gli enti locali beneficiari anche diversi centri del Surgis e del Cagliaritano. Il latte dolce perde con il Bosa e il Budoni l'aggancia in testa alla classifica. La Ferrini frena il rilancio dell'Iglesias, il Taloro sale al terzo posto, scavalcando l'ossese ferma per il turno di riposo. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale da Canale 40. Abbiamo anche questa edizione con le problematiche del mondo del lavoro, in particolare di quello che accade nel Polo Industriale di Portovesme. Non sono positive purtroppo le novità che arrivano in questi primi giorni dell'anno per i lavoratori del Polo Industriale di Portovesme e nello specifico per i dipendenti della Portovesme SRL. Vediamo le novità. Le segreterie territoriali Fion CGL, FSM Cisle e Wilm Will del Sul Ciglesiente stamane hanno diffuso una nota nella quale annunciano che dopo anni di proposte puntualmente disattese, ora la Portovesme SRL, dopo anche le annunciate fermate dei reparti, prepara la riduzione del servizio di pronto soccorso. Solo pochi giorni fa, con gli auguri di buon anno ai propri dipendenti, si evidenziava l'importante risultato raggiunto in termini di sicurezza. E ieri, scrivono le segreterie sindacali, è stata annunciata la riduzione del servizio di pronto soccorso. Vergognoso e pericoloso. Il tutto segue le dichiarazioni del giorno prima, in cui si sono preannunciate le imminenti fermate dei forni presenti nei reparti dell'arrestimento e del KSS. Una situazione non più tollerabile, sostengono le segreterie sindacali, che costringe gli appalti ad anticipare l'azione di protesta e di iniziative annunciata in occasione dell'ultimo sciopero degli appalti del 22 dicembre scorso. Il coordinamento dei delegati degli appalti e le strutture sindacali ritengono gravissime le dichiarazioni della Portovesmo SRL, alla vigilia di incontri ufficiali con il Presidente della Regione Sardegna, al quale si chiede di non tergiversare. Non si possono concedere aiuti, finanziamenti, predisporre leggi ad aziende che puntano costantemente a ridurre i costi, ottimizzare i guadagni e condividere eventuali perdite economiche e occupazionali, scaricandole sulla collettività, sostengono Cisle e Will. I primi gravi segnali erano stati dati anni fa, con la riorganizzazione del lavoro che aveva portato aumenti dei carichi di lavoro e riduzione della forza lavoro, in una fase in cui il problema energetico non era ancora arrivato. Le denunce e le preoccupazioni di allora sono state inascoltate e adesso ci viene presentato il conto. Oggi l'azione messa in atto dalla Portovesmo SRL sgombra il campo ad ogni dubbio, aggiungono le segreterie sindacali. Per tali ragioni chiediamo alla politica un cambio di passo nei rapporti con questo amministratore. Si parli di eventuali norme al sostegno dell'azienda, solo a patto che si garantiscano le produzioni e le occupazioni prima della crisi. Si sgombra il campo da possibili equivoci legati a eventuali riconversioni. Si evitino drammatiche chiusure di interi reparti produttivi. Si dia la giusta responsabilità ad un'azienda che non è stata in grado di ottenere le giuste garanzie sull'energia quando questa opportunità era nelle loro possibilità. I lavoratori degli appalti non sono più disponibili a stare a guardare impassibili su quanto sta accadendo sulle loro spalle. Confermano lo stato di agitazione e preparano una forte mobilitazione per il giorno 12 gennaio 2023 a Cagliari per chiedere soluzioni immediate alla loro vertenza che al momento sembra che tracci una sola strada, quella dei licenziamenti collettivi. Proroga sino al mese di aprile e via l'iter per la definizione di un nuovo capitolato d'appalto per il servizio di igiene pubblica e di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Carbonia. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato l'assessore dell'ambiente Manolo Mureddu. L'esponente della giunta guidata dal sindaco Pietro Morito infatti ha confermato che è stato affidato ad una impresa specializzata il compito di progettare il capitolato, fatte salve le scelte politiche che deliveranno da una fitta rete di raffronti con le parti sociali, sindacali, le commissioni e il Consiglio. 2022 di lavoro intenso per la Polizia Ferroviaria, tracciato il bilancio dell'attività compiuta su treni, stazioni e linee ferroviarie dagli agenti del compartimento di Cagliari. Ce ne parla Maurizio Locci. Quasi 47.000 persone identificate, 430 veicoli controllati. È stato un 2022 intenso per il compartimento Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato di Cagliari. Attività di controllo messa in atto su direttive del Servizio Centrale di Polizia Ferroviaria durante l'anno appena trascorso è stata intensificata con i servizi di prevenzione e controllo del territorio per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario. Gli agenti della Polfer hanno effettuato ben 4.306 pattuglie, 3.010 nelle stazioni, 465 sui treni, 412 anti-borseggio e 392 sulle linee ferroviarie, che hanno consentito di individuare e trarre in arresto due persone, una in esecuzione di una misura cautelare e una per evasione. Sono state indagate inoltre 49 persone per reati di vario genere. Inoltre sono stati emessi tre ordini di allontanamento dall'area ferroviaria, notificato un foglio di via obbligatorio e su richiesta dell'Apple Fair la questura di Cagliari ha emesso un DACUR, sorta di DASPO dalle aree urbane. Infine sono state notificate due espulsioni dal territorio nazionale ad un cittadino extracomunitario. I controlli hanno portato altressì alla contestazione di 69 infrazioni amministrative. Sulla continuità territoriale è ferma la presa di posizione di Pietrino Fois, amministratore straordinario della provincia di Sassari. Nessuno decida per noi, ha detto. Andiamo tutti uniti a Bruxelles. Vediamo. I sindaci delle province di Sassari, Oristano e Nuoro, hanno risposto all'appello lanciato dall'amministratore straordinario della provincia di Sassari, Pietrino Fois, e hanno affollato la sala Angioi di Palazzo Sciuti per incontrare l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro e ribadire l'emergenza del fallimento della continuità territoriale dai per la Sardegna, in particolare nel nord-ovest. Dopo il bando andato a deserto per l'aeroporto di Alghero, tutto il territorio ha deciso di mobilitarsi per scongiurare quello che potrebbe rivelarsi un vero e proprio dramma sociale ed economico che metterebbe in ginocchio i sardi e cancellerebbe di fatto il diritto non solo alla mobilità, ma il diritto stesso di pari dignità sancito nell'articolo 3 della Costituzione italiana. Pietrino Fois ha rimarcato un concetto fondamentale, non abbiamo bisogno di citare l'articolo 19 sul principio di insularità, dobbiamo ribadire che ogni cittadino ha pari diritti e dignità sociale ed è uguale all'altro davanti alla legge, come sancisce il succitato articolo 3. Il caso Alghero ha davvero lasciato sgomento un territorio che da anni lotta per la mobilità e costruisce una rete di trasporti in grado di rispondere alle esigenze dei sardi. Il messaggio che viene lanciato dalla provincia di Sassari e ribadito dalla voce degli amministratori è chiarissimo, le infrastrutture per noi sardi sono i trasporti aerei e navali. Se dobbiamo chiedere continui interventi per vedere garantito il diritto di spostarci dall'isola in regime di continuità territoriale, dicono in coro i primi cittadini se non diamo gambe a dei bandi studiati sul nostro modello economico non saremo in grado di garantire alla Sardegna gli stessi diritti che hanno il resto dei cittadini italiani. Dopo gli interventi dei sindaci l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro ha ribadito la sua totale condivisione e preoccupazione in merito al caso Alghero. Innovazione digitale, snellimento delle procedure burocratiche, risparmio di tempo e semplificazione del rapporto con i cittadini attraverso l'offerta di nuovi servizi a portata di mano da richiedere nelle tabaccherie ubicate nella città di Carbonia che costituiscono una rete di prossimità importante soprattutto per le piccole realtà locali. Già a partire dal lunedì 9 gennaio nelle tabaccherie del territorio comunale infatti sarà possibile richiedere visure catastali, visure camerali e stampare anche documenti. Tra questi servizi particolarmente richieste soprattutto negli ultimi mesi sono le visure catastali necessarie a mero titolo esemplificativo per accedere al super bonus 110% e al bonus facciate. Soddisfazione è stata espressa dall'assessora degli affari generali e della transizione digitale Katia Puddu, ciò è reso possibile grazie alla collaborazione di Novares S.P.A., società del gruppo FIT che realizza i progetti al servizio dei cittadini. Quasi 9 milioni di euro per le calamità naturali che hanno colpito diverse anni dell'isola tra il 2018 e il 2022. Tra comuni ed enti locali beneficiari ci sono anche diversi centri del Sulcis e del Cagliaritano. Ce ne parla Maurizio Locci. Oltre 8 milioni e 700 mila euro a 53 enti locali tra comuni ed unioni dei comuni per le calamità naturali che hanno devastato diverse zone dell'isola tra il 2018 e il 2022. Sono i fondi che la regione, ha sottolineato il presidente Cristian Solinas, ha stanziato a sostegno delle comunità locali colpite a causa di eventi meteorologici straordinari come precipitazioni eccezionali, forte vento, grandinate e siccità che hanno costretto numerose amministrazioni locali a chiedere lo stato di calamità e a provvedere con interventi in urgenza con pesanti conseguenze sui precari bilanci comunali. I fondi consentiranno ai comuni e altri enti locali di attuare interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo, per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza in alcune delle aree devastate. La protezione civile regionale ha ricevuto le istanze di contributo ed esaminato la documentazione necessaria per accertare l'ammissibilità delle spese sostenute. Sono stati eseguiti i sopralluoghi e concluse le verifiche tecnico-amministrative di rendiconti presentati da 18 comuni per un importo complessivo di 837.813 euro. Per altri 21 enti locali, ha dichiarato l'assessore regionale della difesa all'ambiente Marco Porcu, si stanno concludendo gli istruttori pari a 2.822.367 euro. Infine, per altri 18 comuni, è stato già possibile effettuare una prima stima di danni e dei relativi costi necessari per l'esecuzione delle opere e degli interventi in emergenza per un importo complessivo di 1.015.000 euro. Queste ultime somme sono, ovviamente, suscettibili di variazioni in base alla rendicontazione che verrà presentata. Tra i 53 comuni e denti locali beneficiari, per quanto riguarda il Sulcis e parte del Caglieritano, ci sono anche Fluminimaggiore, Teulada, Sant'Antioco, Sant'Anaresi, Quartuccio e Capoterra. Inoltre, presso la protezione civile, sono stati istituiti due fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi del 28 novembre 2020. Uno per i soggetti privati e le attività produttive, l'altro per gli interventi sul patrimonio pubblico. Per gli interventi più urgenti sul patrimonio pubblico e per scongiurare il pericolo imminente di ulteriori danni, con particolare riferimento alla viabilità extraurbana, ha evidenziato l'assessore, abbiamo sanziato oltre 4 milioni di euro, destinati in particolare a Galtelli, Lodè, Lula e Nuoro. Per altri interventi strutturali, sempre nelle aree interessate dell'evento calamitoso del 28 novembre, saranno disponibili ulteriori risorse, circa 11 milioni di euro, che saranno programmate con un successivo provvedimento dell'Aggiunta regionale. È partito a Quartus Sant'Ele nel nuovo progetto dedicato alle nuove generazioni e più specificamente alla lotta al disagio giovanile. L'assessorato delle politiche sociali infatti ha studiato e avviato il servizio di educativa di strada, finanziato dalla regione e incluso tra gli interventi dell'educativo territoriale. Il programma punta alla costruzione di reti più fitte di collaborazione con questa fondamentale fetta di cittadinanza, lavorando sul territorio, che diventa quindi il cantiere in cui costruire relazioni tra i ragazzi. Si tratta di un servizio complementare, molto utile innanzitutto perché fugge d'antenna dei bisogni, per poi diventare anche occasione di microprogettualità, ha spiegato l'assessore dei servizi sociali e delle politiche giovanili Marco Camboni. È un sistema che entra nelle dinamiche dei gruppi informali in maniera discreta, un viatico nuovo, diverso dal solito, che permette di guadagnare la fiducia del minore. Straordinaria partecipazione popolare questa mattina in piazza Roma a Carbonia alla quinta edizione della Festa della Befana, organizzata dall'Auser Carbonia e dall'Associazione Culturale Le Simpatiche Canaglie, con il patrocinio del Comune di Carbonia. L'iniziativa si è sviluppata con la parata della Befana, le esibizioni della scuola di ballo e le dance, la maxi slitta di Babonatale con un gruppo di Befane adulte e bambine iscritte al concorso e a chiudere la parata i Re Magi. A mezzogiorno è il momento crudo della festa, la spettacolare discesa della Befana dal campanile della chiesa di San Ponziano e la consegna simbolica della chiave della città da parte del sindaco Pietro Moritto. Alle 12.30 circa la distribuzione di mille calze a tutti i bambini presenti. Durante la manifestazione in piazza Roma erano presenti anche i celebrei personaggi di Batman, Spider-Man, la principessa Elsa di Frozen, che hanno alietato la giornata di tutti i bambini. La Polizia Locale del Comune di Carbonia effettuerà nel corso del mese di gennaio, appena iniziato, controlli sistematici su tutto il territorio comunale per verificare che siano rispettati i limiti di velocità da parte di conducenti. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate a norma di legge dall'apposito segnale stradale di indicazione temporanea ad alta visibilità riproducente l'iscrizione Polizia Municipale di Carbonia, controllo elettronico della velocità. L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza sotto il costante controllo del personale appartenente al comando di Polizia Locale di Carbonia. A San Giovanni di Sinis, nell'area marina protetta penisola del Sinis, isola Maldivente a Cabras, è stato ritrovato un esemplare di Verdesca, Pionace Glauca, spiaggiato ma vivo. A dare l'allarme al corpo forestale è stato un cittadino di Cabras, Pippo Mereu, che si trovava nella zona e ha notato che l'animale si dimenava sul bagnasciuga. Gli agenti hanno agevolato il ritorno in mare dell'esemplare con estrema cautela e atteso per oltre mezz'ora per evitare che venisse nuovamente portato arriva dal Risacca. Da oggi per i cittadini della Sardegna Meridionale è possibile richiedere anche online i dati dei rapporti intercorrenti con poste italiane relativi all'anno 2021 e necessari per la presentazione dell'attestazione ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. La certificazione sarà disponibile in tempo reale. Per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata. Il documento che viene messo su richiesta dell'intestatario racchiude tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE relative ai prodotti finanziari. Sarà presentato martedì prossimo 10 gennaio alle 17.30 presso la Biblioteca Universitaria di Sassari in via Enrico Costa 57 il libro Asinara Mosaico di Popoli Campo di concentramento prigioniere di guerra 1915-1920 di Malisa Porcu Gaias edito dalla EDES. Interverrà il direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari Giovanni Fiori che dialogherà con l'autrice Lorena Piras. L'opera parla dell'odissea dei prigionieri austro-ungalici internati nel campo di concentramento dell'Asinara durante la Grande Guerra. Con l'inizio dell'anno ritorna puntuale Capitani Coraggiosi, la rassegna che per tradizione la compagnia Cadadie Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. La formula è quella consolidata. Spettacoli, laboratori, installazioni, mostre, golose merende e giochi. Un calidoscopio di appuntamenti dall'8 gennaio al 27 febbraio in programma al Teatro Comunale Sì e Boi di Salargius grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale Salargina. Edoardo Saporiti in arrivo in prestito dal Modena e un nuovo giocatore della Torres 2023 di mister Stefano Sottili. Nella prima parte della stagione attualmente in corso Edoardo Saporiti, classe 2001, ha militato nell'Aquila Montevarchi collezionando 11 presenze, 8 da titolare e 3 da subentrato. Edoardo Saporiti non è solo un trequartista ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta o di esterno d'attacco. Sarà già a disposizione del mister Stefano Sottili per la gara con il Sandonato Tavarnelle. Il 2023 non è iniziato bene per la capolista Sassari Calciolate Dolce nel campionato di eccellenza che sul campo del Bosa ha perso 3 a 2 la seconda partita stagionale dopo quella interna con il Carbonia ed è stata raggiunta in testa la classifica dal Budoni che si è imposto 2 a 0 sugli punti. Al terzo posto c'era il Taloro di Gavoi che ha battuto 2 a 1 la Cosmoto Monastir e ha scavalcato l'Ossese che ha riposato. Il San Teodoro Porto Rotondo ha superato 2 a 1 il Lanusei e ha staccato di due punti di Carbonia che è condizionato dalle numerose assenze per le squalifiche post partita di Cagliari con la Ferrini è stato costretto sullo 0 a 0 dalla Villa Cidrese dell'ex Graziano Manno. Importante conferma per la Ferrini che ha espugnato 1 a 0 il Monteponi di Iglesias frenando il rilancio della squadra di Andrea Marongio. Bella vittoria per la Nuorese sul Carangianus 2 a 1, squillante vittoria per Ghilazza ad Arbus 3 a 0 e infine il Sant'Elena ha battuto 4 a 2 la Tarros. Vediamo ora uno stralcio delle interviste realizzate al termine della partita a Carbonia a Villa Cidrese la cui versione integrale andrà in onda come sempre nello speciale al termine del telegiornale. Federico Cocco, una formazione d'emergenza, quello che è accaduto a Cagliari con la Ferrini inevitabilmente ha lasciato il segno, un avversario ostico, possiamo dire tutto sommato un stato giusto, un primo tempo forse con qualcosa in più loro, nel secondo siete cresciuti, occasioni da una parte dall'altra, alla fine 0 a 0. Sì, è stata una partita tosta, una bella battaglia, non era facile per noi stare in campo con 4-5 giocatori che sono venuti a mancare vista la partita con la Ferrini, però i ragazzi sono stati molto molto bravi, siamo stati compatti, siamo stati in gruppo, bravi ragazzi, non era facile. Graziano Mannu, 0 a 0, un punto ciascuno, dice quel vecchio proverbio, non fa male a nessuno, tutto sommato forse è anche stato giusto, primo tempo dalla vostra parte, nel secondo tempo la situazione è un pochino capovolta, però i gol non sono arrivati. Allora, sì, diciamo un pareggio con un punto per uno, al primo tempo siamo stati molto bravi, fino alla metà campo poi sottoporta, non siamo stati così incisivi da sbagliare la partita, però abbiamo fatto molto bene, al secondo tempo i primi 10-15 minuti fino a prendere le misure, voi un po', perché il carbone ha accelerato un pochino, voi la stanchezza nutrava il campo un po' pesantuccio e non in perfette condizioni, la squadra ha sofferto un pochino, dopo ci siamo ripresi e in diverse ripartenze potevamo fare gol anche al secondo tempo. Era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione che avete prestato fin qui e darvi appuntamento alle nostre prossime edizioni del Tg di Canale 40.